Grazie a tutti, una presenza che riempie il cuore oltre che l'ex convento di San Francesco. Credo che questi siano dei momenti veramente emozionanti per chi vi parla e questa emozione, questa gioia, voi la potete leggere in me, soprattutto grazie ai Neuroni Specchio, che è il tema che oggi tratteremo. Pordenone Legge mi ha incaricato di fare gli onori di casa e lo faccio ben volentieri ringraziando i nostri sponsor che hanno reso possibile questo incontro e ringraziando tutti voi per la presenza. Soprattutto ringraziando l'ospite d'onore di oggi che è uno dei più grandi neuroscienziati del mondo, autore di una delle scoperte più importanti giudicate da Forbes del millennio. Il professor Giacomo Rizzolatti recentemente è stato insegnato di un titolo molto importante, sarà membro della famosa National Academy of Sciences americana, che è un bureau, un ufficio dei massimi esperti in scienze del mondo, a stretto contatto con il Presidente degli Stati Uniti. Ed è l'unico italiano quest'anno che si è entrato in questa prestigiosissima assemblea. Mi trovo io a presentare quest'oggi il professore con una gioia ovviamente immensa, perché nella mia storia di formatore e di docente di comunicazione all'interno delle aziende mi sono trovato a fare un corso, un'esperienza, con uno dei più grandi scienziati, esperti, linguisti del mondo, che si chiama John Grinder, cofondatore della famosa PNL, Programmazione Neurolinguistica. E quando ho incontrato il professor Grinder e ho lavorato con lui, mi ha detto ma tu conosci i neuroni specchio, vero? E io ho detto no, ma come fai a non conoscere i neuroni specchio che li ha inventati un italiano, li ha scoperti un italiano, scusate. E ho detto va, me lo dica a questo punto, ma Giacomo Rizzolatti tu non l'hai mai sentito? No, confesso di no. Beh non puoi continuare a fare questo lavoro se non conosci i neuroni specchio. Quindi vai su Google, proprio così mi ha detto, cerca Mirror Neurons, Neuroni Specchio, e studia tutto quello che puoi. E così ho fatto, era il 2008. Ho notato che nel mio lavoro i neuroni specchio influenzavano veramente la comunicazione e i rapporti tra le persone, talmente tanto nella pratica che non sono riuscito a trovare dei riferimenti scientifici nella bibliografia che ho trovato, eccetto l'ultimo capitolo del famoso So quel che fai del professore, capitolo 7, dove si accenna all'empatia. In realtà io nella pratica pensavo di aver trovato delle grandissime consonanze fra gli studi sui neuroni specchio e ciò che era la pratica. E allora ho cercato, finché ho trovato su Facebook un gruppo, Amici dei Neuroni Specchio, con 600 persone. E in questo gruppo ho letto di un ragazzo che scriveva delle cose che io reputavo piuttosto intelligenti e interessanti, Davide Donnelli, che poi è diventato il coautore del libro che ho scritto. E l'ho chiamato, ho detto Davide, io nella pratica ho riscontrato queste cose, tu che studi medicina, cosa ne pensi? E lui dice cavoli, sai che mi pare che siano delle buone cose, ma tu in aula le vedi queste cose qui? Sì sì le vedo, io noto un contagio emotivo. Cosa vuol dire un contagio emotivo? Che non solo quando sbadiglio agli altri viene da sbadigliare, ma anche se arrivo al mattino con dell'ansia e con dell'angoscia o con dello stress in azienda, chi mi vede risuona in questo stress, lo sente, lo vive in qualche modo. C'è un contagio emotivo. Pensi che sia una sciocchezza? E lui dice ma non lo so, secondo me non è una sciocchezza. A questo punto chiediamolo al numero uno. E abbiamo chiesto un appuntamento al professore che generosamente ce l'ha concesso. Adesso immaginatevi questi due ragazzini che si trovano di fronte ad un colosso del genere. Gli spiego, dico professore io ho notato queste cose, mi dice ah interessante, potrebbe essere interessante, ma guardi non solo ho notato queste cose, io vorrei scriverci un libro su questa cosa. Io mi ricordo la reazione abbastanza, in realtà ha messo le mani dietro la testa, ma voi due siete pazzi, molto affettuoso e molto dolce, di questo lo ringrazio e me lo ricordo tuttora. Scrivete questo libro e poi me lo portate. Noi l'abbiamo scritto, ci abbiamo messo un anno, però abbiamo detto un anno per scrivere questa roba abbiamo anche pensato scientificamente, è corretto oppure abbiamo detto delle castronerie. Torniamo dal professore, gliel'abbiamo portato in bozza. Senta professore abbiamo una richiesta un po' strana, dice ditemi, lei mica potrebbe, dico correggerlo, che è una richiesta abbastanza spudorata e sfacciata, e lui dice sì, volentieri, gli do un occhio, devo fare un viaggio, adesso devo andare in America, in Giappone e me lo porto dietro in aereo e vi farò sapere. Tempo dopo lo contattiamo, sì sì ho dato un'occhiata e torniamo a Parma dal professore. Ragazzi il libro è carino, mi è piaciuto, ci sono delle belle figure, delle belle cose, mi ha appassionato. Gli errori ce ne sono qualcuno, li ho sistemati e ce l'ha fatto vedere. Adesso gira. A quel punto io ho pensato, professore, visto che siamo stati pazzi e abbastanza spudorati, siamo pazzi e spudorati da chiederle anche la prefazione. E lui non ha esitato, devo dire, io ve la faccio volentieri. Potete immaginare come si possono sentire due ragazzi, 30 e 25 anni, di fronte ad una cosa simile. Nella vita si fanno incontri meravigliosi, incontri che cambiano veramente la vita. Quindi all'inizio John Grinder, poi Davide Donelli, poi il professor Giacomo Rizzolatti e poi l'editore, che non mancherò mai di ringraziare, un editore nazionale che è Amrita di Torino, un editore particolarmente illuminato, che ha deciso di, pubblicarci a livello nazionale. Così, io sento che questa cosa è buona e vi pubblico. La bella notizia è che ora usciremo anche negli Stati Uniti d'America, il libro è stato tradotto, verrà tradotto anche in spagnolo, quindi è una cosa che non ci aspettavamo e chiaramente ci riempie di gioia. Io sono qui nella mia città, quindi potete immaginare quanto si è felice di essere qui in questo momento e di presentarvi un personaggio come Giacomo Rizzolatti, che ora ci spiegherà che cosa sono i neuroni specchio e che cosa hanno a che fare con l'empatia. Vi ringrazio tutti. Buon ascolto. ringrazio il dottor Rizzato per aver organizzato, anzi innanzitutto per questa presentazione, poi per aver organizzato questa mia venuta a Portenone. Io poi sono di famiglia quasi della vostra provincia, io mi considero udinese veramente, ma sono nato, la mia famiglia meglio è di Clausetto, quindi è diventato provincia di Portenone. Sono tornato a casa e è perfettamente vero quello che ha raccontato, questi due ragazzi sono arrivati, mi hanno fatto vedere questo libro, io ero molto scettico, poi invece ho visto delle belle illustrazioni, poi insomma il libro non era fatto male, ho dovuto correggere qualche parte, ero molto scettico che trovassero poi qualcuno che glielo pubblica e invece l'hanno trovato e adesso sembra che il libro abbia successo e lo merita perché tratta certi aspetti diciamo divulgativi che uno scienziato non fa, in genere uno scienziato non fa molta divulgazione perché è impegnato a altre cose, anche il nostro libro, quello che ho scritto con Sinigaldia è essenzialmente un libro scientifico anche se lo legge anche persone di cultura, quindi direi che è stata un'opera meritoria, soprattutto in Italia, poi i libri di divulgazione ce ne sono pochi. Va bene, finito questo vediamo un momentino di cosa devo parlare io, voi immaginate questo bicchiere, io incomincio con un esempio, questo è un bicchiere, lo faccio così e lo prendo, tutti voi avete capito che io ho preso un bicchiere, ora immaginate che io lo piglio così, ancora avete capito che io ho preso un bicchiere, ma penso che tutti avete capito che se io piglio in questa maniera lo scopo della mia azione sarà diversa se lo piglio così. Questo è ovviamente per bere, questo è molto difficile che sia per bere, non posso bere perché ostruisco il liquido con la mia mano. Bene, come facciamo a capire questo? Cioè come fa uno a capire che il bicchiere è stato afferrato? Beh la versione classica è che questo succede in quanto noi abbiamo una descrizione della mano, una descrizione del bicchiere, le cose si muovono e poi noi facciamo un processo logico dedutivo, siamo dei piccoli Sherlock Holmes, cioè risolviamo il problema e diciamo l'ha preso. Ecco questa è la versione classica, ufficiale di come noi comprendiamo l'azione degli altri. Una visione che per molto tempo è stata considerata eterodossa, ma qualche neurologo che c'era qui si ricorderà perché si studiava questo quando facevamo neurologia, questa è la versione della fenomenologia. Husserl e poi Sartre, soprattutto Merleau-Ponty, invece proposero quello che è scritto qui, che vedete dietro di me, cioè che in realtà noi capiamo le azioni degli altri perché in qualche maniera entrano dentro noi stessi, noi abbiamo una risonanza tra quello che fanno gli altri e quello che facciamo noi. Quindi non è un processo logico, le persone non sono semplicemente degli oggetti al di fuori di noi, ma noi capiamo gli altri perché abbiamo le stesse esperienze. È la comunione di esperienze che ci permette di far capire le cose. Bene, questo per molto tempo è stato considerato quasi poesia, soprattutto gli scrittori, i filosofi, analitici americani consideravano questo. Sono frasi bellissime, ma in realtà non vogliono dire niente. Ora noi abbiamo trovato alcuni anni fa un meccanismo che invece indica che questo tipo di comprensione è reale. Prima di darvi dati, un momentino così di una piccola spiegazione scientifica che è indispensabile. Innanzitutto noi abbiamo studiato, registrato dalle aree motorie inizialmente, che sono queste, non so se vedete, beh comunque sono queste qui al davanti, quelle indicate con F e soprattutto abbiamo studiato un'area che qui è indicata come F5. Ora quello che noi abbiamo trovato, ancora non si parla di neuroni specchio, prima abbiamo trovato che i neuroni di quest'area si attivano non solo quando uno muove, ma si attivano quando uno raggiunge un oggetto per prenderlo. Adesso mi sono un po' spiegato male, ma ecco la differenza è questa. Questo è un movimento, questo è un atto motorio. Cos'è la differenza? Che il movimento sono semplicemente delle modificazioni della posizione delle mie parti corporee. Prendere implica uno scopo. Quindi si introduce, questo è un punto molto importante che si dirà poi per capire anche i neuroni specchio, si introduce il fatto che il nostro sistema motorio codifica lo scopo. E quest'area dice prendere. Poi vedrete che si può prendere in varia maniera. Ancora una piccola parentesi di tipo neurofisiologico. Come si parlano i neuroni? I neuroni parlano l'uno con l'altro mediante un linguaggio che è fatto di segnali tutti uguali, che si chiamano potenziali d'azione. Tra poco vi farò sentire i potenziali d'azione. Ma il linguaggio è molto semplice perché sono tutti potenziali della stessa altezza è quello che cambia la frequenza. Quindi mettiamo conto che io metto un elettro dentro il mio nervo e tocco la mia mano, se la tocco piano sentirò un tac, tac, tac. Se la stimolo fortemente sentirò un tac, 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 e così via. Quindi il neurofisiologo quello che fa è registra i neuroni e poi cerca di capire come parlano secondo della frequenza di scarica, di questi tac, tac, tac. Tra un momento vedrete. Quello che voi vedete qui è quello che prova prima. Questo è un neurone registrato da quell'area F5, quei puntini sono i potenziali d'azione e vedete che la scarica è presente sia quando uno afferra con la mano, sia quando afferra con l'altra mano o con la bocca. Quindi quello che conta non è il movimento, che è radicalmente diverso, ma quello che conta è lo scopo dell'azione. Prendere. Questo neurone dice prendi. Bene, è vero questo o non è vero? Recentemente abbiamo fatto un esperimento contro di noi. Ce l'abbiamo provato a vedere, a insegnare a una scimmia, a prendere con una pinza vera, oppure con questa strana pinza che voi vedete sotto, la reverse plier. Questa, se qualcuno è stato in Francia, si ricorda che è quella con cui si mangiano le lumacche. Non so perché i bei francesi afferdo le lumacche usando questo strano strumento e ci è stato suggerito proprio da uno studente francese perché non provate a usare questo strumento qui. Va bene, l'abbiamo usato e abbiamo insegnato a una scimmia a pigliare sia con la pinza normale sia con la pinza strana. Qui vi faccio vedere un filmato così avrete un'idea di cos'è un neurone dell'afferramento e poi vedrete che questa scimmia è brava, sa usare lo strumento. Quindi guardate le immagini e cercate di correlare col tac 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 che sentirete tra un momento. questo è un neurone dell'afferramento, comanda l'afferrare. Per quelli che sono osservatori si saranno accorti che la scimmia faceva ogni tanto così con lo strumento perché voleva avere il mangiare, però quando faceva così non sparava, quindi il movimento, il neurone non sparava, il neurone non si attivava. Sparare è un termine gergale che vuol dire che si attiva il neurone. Faceva così e non succedeva niente. Nel momento invece in cui afferrava, ma come afferrava? Afferrava nella maniera più illogica, cioè aprendo la mano. Questo l'abbiamo dimostrato poi scientificamente mettendo un potenziometro e dimostrando che sia in un caso a sinistra la scarica c'è quando la mano si chiude e qui quando la mano si apre. Ecco, questa è la premessa, quindi dovete avere presente che i neuroni hanno questo linguaggio molto semplice di modulazione di frequenza e che nelle aree motorie esistono dei neuroni che si attivano per lo scopo del movimento. Noi poi abbiamo trovato sempre in questa area che c'erano dei neuroni che rispondevano agli stimoli visivi e inizialmente abbiamo trovato qualcosa che era molto interessante per i fisiologi ma forse meno emozionanti di quello che ha detto Rizzato prima, cioè se uno avvicinava un oggetto alla scimmia c'era una scarica del neurone motorio. Cioè in altre parole, cosa succedeva nel cervello della scimmia? Che un oggetto si trasformava in un piano d'azione e se io gli facevo vedere un oggettino piccolo come un semino, si sparavano, si attivavano i neuroni per prendere così, con due dita mentre se gli facevo vedere una mela si attivavano i neuroni per prendere con tutto. Quindi c'era una trasformazione immediata, questo succede anche nell'uomo, tutte le volte che noi vediamo un oggetto automaticamente noi abbiamo una trasformazione visivo-motore, siamo pronti ad agire sull'oggetto. E fin qua però erano dati, diciamo, che interessavano il fisiologo ma che non sconvolgevano il mondo un po' si prevedeva che ci dovesse essere qualcosa del genere. Quello che ha stupito molto noi, ci ha reso perplessi, poi in molti anni abbiamo fatto controlli, eccetera è quello che vedete qui. Cioè a un certo punto noi prendevamo il cibo, ecco io voglio dirvi una cosa cioè il nostro approccio al sistema motorio è radicalmente diverso da quello degli autori americani è quello che ci ha permesso di scoprire questo. Cioè noi abbiamo lavorato con le scimmie usando un approccio etologico. Cioè noi giocavamo con l'animale, non è che l'animale veniva condizionato stava in una gabbietta, faceva ticco tocco con la mano dentro. E questo ci ha permesso di ampliare moltissimo perché se voi lavorate con un animale giocandoci vedete tutta una serie di possibilità che non vedete se invece lo condizionate a fare una e una sola cosa. Va bene, noi quindi dovevamo dare da mangiare a questo animale quindi uno pigliava un oggetto e lo dava alla scimmia. Ci siamo accorti che spesso sparavano, i neuroni si attivavano non quando la scimmia guardava l'oggetto, ma quando noi pigliavamo l'oggetto. E qui voi vedete un tipico neurone motorio che spara quando la scimmia afferra e quando la scimmia vede afferrare. Quindi adesso vi faccio vedere un filmato che ha visto Mezzomondo, ma è sempre bello farvi vedere, che è un esempio molto bello di neurone specchio. Dovete fare la solita cosa, cioè correlare la scarica del neurone, il tic tic tac, con cosa fa la scimmia e con cosa fa lo sperimentatore. Questo è il solito neurone dell'afferramento Fanno un altro così Come prima Tiri Ancora Questo è l'effetto mirror Effetto specchio Fai ancora E provano questo Prova con uno dei tuoi stimoli che li conosci Penso che sia stato chiaro. C'è proprio questo dialogo. Quando afferrava la scimmia, quando afferrava il professor Fogassi, che avete visto qui, sparava ugualmente. Perché sparava quando faceva così verso la bocca? Perché indicava un afferrare. La scimmia in quel momento capiva che lo sperimentatore afferrava, anche se afferrava con la bocca. Quando faceva così, invece, non era un afferrare. Quindi all'inizio forse c'era una piccola scarica, quasi pensasse che va in bocca. Poi invece andava fuori. Bene, io vi dicevo che noi eravamo un po' preoccupati quando abbiamo scoperto questi neuroni. Perché preoccupati? Perché insomma siamo in un'area motoria, diamo stimoli visivi, magari siamo ingannati dalla scimmia che fa qualche piccolo movimento, chissà cosa fa. Quello che ci ha convinto molto sono neuroni come quello che vedete qui. Perché in questo caso il neurone si attiva solo, sono pochi di questo tipo, ma si attiva solo se uno spezza l'oggetto. E lo stesso vale se la scimmia spezza l'oggetto. Altre cose no. Ora, quando io spezzo la scimmia, non spezza sicuramente. Una cosa che ci hanno chiesto molte volte, e ci tengo a chiarirla, queste non sono scimmie condizionate. Queste sono scimmie praticamente libere. Stanno sulla loro sedia, lavorano con noi e poi tornano alla loro sala comune dove vivono. Quindi non sono scimmie condizionate. E quello che voi vedete in A è una scimmia intruso. Non c'entra niente. Mentre noi facevamo l'esperimento abbiamo portato una scimmia dentro una gabbietta. Loro di solito vivono in un grande spazio, ma per l'esperimento voleva mettere una gabbietta. E guarda la scimmia che noi studiamo. Ogni volta che la scimmia che noi studiamo mangia, afferra e prende, c'è una scarica nella testa della scimmia intrusa. Ora, notate che la scimmia intrusa mangia lei, non da mai mangiare all'altra. Quindi non c'entra niente un condizionamento, un reward, un premio. E semplicemente quando io vedo uno afferrare, scarica nel mio cervello un certo numero di neuroni che dice quello prende, quello rompe, quello spinge e così via. Non c'entra niente il condizionamento. Ora, qual è il ruolo funzionale dei neuroni specchio? Ecco, quello che voi vedete qui è la nostra interpretazione che è accettata la maggior parte delle persone. È per capire che cosa fanno gli altri. Cioè, noi possiamo capirne in varie maniere, su quello poi tornerò. Ma c'è una maniera primitiva, immediata di capire. Quello che vi dicevo prima, nel momento in cui entro nel bar, non sto a pensare questo forse cosa fa. Ma immediatamente, dico, sta pigliando un bicchiere, sta pigliando un bicchiere di birra, quello che è. Questa invece è, io vi dicevo che ho apprezzato molto queste belle vignette che c'è nel libro di Rizzatto e Donelli. Cioè, esprime molto bene quello che vi dicevo. Vedete, c'è l'attivazione del cervello del ragazzo che mangia. Adesso il ragazzo vede la ragazza, la bambina, e avviene nel suo cervello esattamente lo stesso. C'è l'attivazione di un pattern motorio analogo. Ora, dagli anni 90, quando abbiamo prima scoperto, ad oggi, oggi sappiamo che quando io vedo una persona afferrare, mi si attivano i neuroni specchio di quell'area F5, che vi ho detto. Ma simultaneamente si attivano i neuroni addirittura dei gangli della base. E un gruppo inglese, recentemente, ha dimostrato addirittura nella via cortico-spinale, quella che va dalla corteccia al midollo spinale. Quindi ho uno schema motorio completo che coincide con quello che io uso quando vado a pigliare io. Quindi, se io con la mia volontà voglio afferrare una mela, mi si attiva quello che vedete lì in quella figura. Quando io vedo un altro fare la stessa cosa, mi si attiva la stessa cosa. E quindi questa similarità o congruenza tra la mia azione e l'altra è quella che mi permette di capire. Qui usciamo da Rizzato, andiamo a un grande scienziato francese, che è Marc Genereau, il quale aveva scritto questa bella frase, dice, una pura percezione visiva, senza che intervenga il sistema motorio, ci dà una descrizione superficiale. Non ci permette di capire le altre componenti dell'azione, le componenti intrinseche, che sono critiche per capire di che cosa si tratta, qual è lo scopo dell'azione e come riprodurlo. Cioè, vedere una cosa è come vedere una diapositiva. Non capisco tutte queste altre cose. Vedrete dopo quando parlerò dell'uomo, questo diventerà ancora più chiaro. Ora, abbiamo detto, per capire, e gli altri ci hanno detto, ma che prove avete per capire? Allora abbiamo detto, facciamo un esperimento. Se per capire, devono capire anche se gli stimoli non sono i soliti stimoli visivi. L'esempio che faccio sempre, in un albergo, siete lì, mezzi addormentati, e sentite del rumore così. Capite subito che qualcuno sta camminando, non avete visto niente, ma il rumore tipico dei passi vi dice uno cammina. E se io adesso qui rompessi un giornale, voi capireste che sto strappando un giornale, e così ci sono molti rumori che descrivono chiaramente un'azione. Abbiamo scelto azioni che la scimmia poteva capire, come rompere, spezzare una nocciolina americana, queste cose qui, e abbiamo fatto un esperimento in cui abbiamo presentato, e quello che voi vedete qui, stimoli naturalmente visivi e suono, o solo visivi, che si può fare con qualche trucco eliminando il suono, o solo addirittura il suono. La terza riga che indica il suono vi dice che il neurone si attivava esattamente per il suono tipico, è la linea sopra, la linea blu. Se presentavamo altri suoni, poteva esserci una certa attivazione, ma minima. Quindi non occorre, e questo è stato adesso ripetuto da molti esperimentatori nell'uomo. Quindi noi capiamo le azioni con il suono, ma le capiamo. È stato fatto anche dei cechi, che riescono a capire le azioni grazie al suono. Qui concludo questa prima parte, che è un po' storica, mettendo chi ha lavorato con me, soprattutto a sinistra, era un gruppo di giovani, allora erano dottorandi, cioè Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi e Vittorio Gallese, che adesso sono nomi noti nel campo delle neuroscienze. Ora andiamo un po' avanti, queste sono cose più recenti. Nello schema che vi ho fatto vedere, quello di Rizzato, si vedeva le aree motorie che si attivavano a destra e si attivavano a sinistra. Si attivavano nello sperimentatore, nello guardatore. Ora, però, come nascono questi neuroni in specchio? Dove saltano fuori? Una collaborazione che abbiamo cominciato molti anni fa con il gruppo di Lovagno, noi abbiamo cercato di capire tutto il circuito. Perché il gruppo di Lovagno? Perché a Lovagno c'è un gruppo di ricercatori che sono stati molto intelligenti, cioè hanno usato la risonanza magnetica funzionale, molti di voi sapranno forse che cos'è, perché ormai è usata molto, la risonanza magnetica è usata moltissimo per vedere se ci sono delle lesioni. La funzionale si basa su quanto sangue aumenta o diminuisce. Il principio è molto semplice, cioè se io per esempio, noto dall'inizio del secolo scorso, se io accarezzo un coniglio, questo è stato l'esperimento di Schellington, accarezzo il coniglio qui, ho un aumento del flusso cerebrale nella corteccia controlaterale. Questo per ovvie ragioni, perché se io stimolo qui, l'informazione arriva alla corteccia e nel momento in cui la corteccia si attiva ha bisogno di maggior sangue, di maggior nutrimento e quindi ho più attivazione qui. Questi studi poi sono stati condotti avanti negli anni 50 e poi si è arrivati a questo miracolo della tecnica per cui senza dover uccidere l'animale, senza dover fare niente, uno tocca la mano di un uomo e lì si attiva. Esattamente quello che Schellington ha visto nel coniglio cento anni fa. Quindi questa è la tecnica. Bene, noi l'abbiamo usata insieme con i ricercatori di Lovagno perché loro hanno avuto una grande idea, hanno detto, in fondo perché non farlo nella scimmia? Basta che la scimmia sia così, in posizione di sfinge, e fissi un puntino luminoso. Intanto il puntino luminoso cambia colore, la scimmia deve premere una leva e ha un premio. La scimmia, ben contenta, se ne sta per 40 minuti seduta nello stesso scanner, nello stesso apparecchio che viene usato per la clinica. Quindi non c'è spesa aggiuntiva. La sera, quando questa macchina non lavora, si porta dentro la scimmia che se ne sta lì bene, tranquilla, lavora per 40 minuti, si piglia il suo mangiare e poi torna a casa sua. Tecnica molto semplice che funziona molto bene con un po' di allenamento. Mentre la scimmia fa questo, noi gli possiamo presentare dei filmati e qui vedete, questi sono i filmati, noia spaventosa, ma tanto la scimmia interessa al mangiare, quindi quello che gli presentiamo non importa, però gli si attiva il cervello, anche se lei è interessata al mangiare, la presentazione degli stimoli e quello, soprattutto questo è importante, quel 3 Tesla, il 3 Tesla sono le macchine più avanzate, ce ne sono più forti, ma queste sono quelle che servono di più anche in clinica, vedete, si attivano delle aree particolari, cioè si attivano le aree che sono essenzialmente visive, questa è indicata con STS, poi un'altra area parietale e poi quest'area qui. Ecco, vi dico questo, per evitare l'idea che a voi non interessa tanto i dettagli anatomico-fisiologici, ma per non pensare che è una cosa magica, improvvisamente compaiono i neuroni specchio, no, i neuroni specchio compaiono perché c'è una elaborazione visiva molto complessa che arriva nell'area STS, un'elaborazione successiva nel lobo parietale e finalmente si arriva alla formazione del neurone specchio. Un altro aspetto, questo recente, è una collaborazione con un gruppo tedesco di Tübingen, molto quantitativo, però è un concetto interessante, è il concetto dello spazio. Noi tutti siamo convinti che c'è un unico spazio, c'è uno spazio. In realtà, si sa dalla neurofisiologia e dalla fisiologia che ci sono degli spazi diversi. C'è uno spazio vicino al mio corpo che è quello che io posso raggiungere e c'è uno spazio lontano. Hanno funzioni diverse. Quello vicino a me serve appunto per agire e è interessante che lo spazio vicino a me è attaccato alla mia cute. Se voi pensate, se uno vi si avvicina troppo vi dà fastidio perché effettivamente è come se vi toccasse. Se uno arriva a questa distanza in realtà entra nello spazio peripersonale e dal punto di vista neuronale è come se uno venisse toccato. Quindi questo spazio intorno a noi ha un significato molto diverso dello spazio lontano. È uno spazio chiamato peripersonale, è il mio spazio, nessuno deve entrarci ed è anche lo spazio di movimento. Ora, insieme col gruppo di Tübingen noi abbiamo esaminato le proprietà dei neuroni specchio usando lo spazio, diversi spazi. Qui la scimmia ferra in uno, in due abbiamo messo un oggetto nello spazio peripersonale e tre abbiamo messo nello spazio extrapersonale. Ecco, e si è visto che ci sono dei neuroni che si attivano specificatamente per uno o l'altro spazio. Quindi a cosa serve questo? Serve al fatto che a seconda di dove io vedo fare l'azione preparo la mia azione successiva. Quindi vado avanti, non solo capisco cosa succede ma sono pronto a reagire in maniera appropriata. E la cosa più interessante, questo è uscito su Science con le riviste più prestigiose, la cosa che ha colpito molto il referì è questo, che alcuni dei neuroni rispondono in maniera fisica, 5 gradi, 10 gradi, 15 gradi, 20 gradi, centimetri, come volete, lontano. Altri invece in base alla potenzialità dell'azione. Cioè il mio spazio peripersonale, ecco questo è il neurone, questo è lo spazio, un neurone che vuole lo spazio extrapersonale, se lo metto nello spazio vicino non c'è risposta, ma se metto una barriera la risposta ritorna. Quindi non è uno spazio fisico, ma è uno spazio di azione, lì io posso agire. E qui, questi sono dati che avevamo appena trovato, ma loro sono approfittati e questo è la Rizzato e Donnelli di nuovo in cui dice vicino lontano, insomma, se c'è da vicino uno che mi minaccia ho da spaventarmi se non c'è una barriera, se c'è una barriera non mi importa niente. Ecco questo direi è la divulgazione che fanno loro che va molto bene, però è precisa con i dati scientifici che vi ho presentato prima in maggiore dettaglio. Ed ora passiamo all'uomo. Ci sono varie maniere di dimostrare il meccanismo specchio dell'uomo. Uno è di nuovo una tecnica usata in neurologia che si chiama elettroencefalografia, voi avrete sentito, soprattutto per l'epilessia si usa, ha fatto l'analisi, eccetera. Bene, ancora negli anni 50 uno studioso francese, Henri Gaston, ha scoperto che c'è un ritmo specifico qui, in corrispondenza della corteccia motoria. Questo ritmo era strano perché reagiva, cambiava frequenza se uno muoveva il pugno, se faceva così cambiava, mentre i ritmi posteriori più studiati in neurologia reagiscono all'apertura e chiusura degli occhi. Bene, successivamente è stato visto che questo ritmo si attiva non solo quando io faccio così, ma quando vedo qualcuno fare questa azione. Ora voi capite che il passo, questo è stato fatto da Ramachandran, lo studioso di San Diego che ci ha fatto un sacco di reclame tra parentesi, e cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente io ho un sistema per studiare i neuroni specchio nell'uomo molto semplice. Ora, questo tipo di ricerca attualmente ha un'enorme diffusione perché ci permette di studiare i bambini. Nel bambino è facile mettere questi elettrici, hanno già lo stesso ritmo e c'è tutto un gruppo di studiosi che studia la reattività del bambino, quale azioni reagisce, quali capisce, quali non capisce e così via. La seconda tecnica, questo era l'AIG, l'elettroencefalografia, è la stimolazione magnetica, transcranica. Un'altra tecnica che si usa in neurologia non è particolarmente esoterica. se io applico uno stimolo magnetico qui, ho una risposta motoria. È uno stimolo magnetico e pertanto non incide sui recettori dolorifici che ci sono nell'acute, c'è una risposta. Va bene, allora la logica qual è? Adesso abbassiamo la soglia, la faccio così bassa che non riesco ad eccitare controllatoriamente e faccio vedere alla persona dei movimenti. Se il sistema mirror funziona, la soglia dovrebbe salire perché si attiva il sistema motorio e questo l'abbiamo fatto, questo è stato introdotto da Luciano Fadiga e da me tanti anni fa, l'abbiamo fatto e anche qui c'è una letteratura molto grande. In file arriviamo a quello che è il campo più studiato, quello della risonanza magnetica funzionale. Io vi ho già detto prima il principio nella scimmia è l'aumento di flusso sanguigno quando una parte viene stimolata e questa tecnica è usata moltissimo. nell'uomo questo che voi vedete qui è uno studio, una review fatta da degli studiosi tedeschi il capo gruppo è Karl Silles che forse è il maggiore anatomico attuale in Germania su questo campo ed è stato fatto su 125 studi quindi vi mostra con assoluta precisione quali sono le aree che si attivano nell'uomo quando uno osserva e vedete che c'è ancora voi forse non riconoscete ma chi è più neurologo riconosce le stesse aree che si attivavano nella scimmia cioè l'STS il parietale e la regione prefrontale quindi dal punto di vista evolutivo c'è stato un arricchimento un arricchimento in termini di più sostanza cerebrale ma il principio è lo stesso è sempre un'area visiva il parietale è il premotorio io ho fatto vedere questo che non è un risultato nostro ma perché dà veramente molto a forza i nostri risultati su 125 noi l'abbiamo fatto per la prima volta anche questo in Italia l'abbiamo fatto a Milano al San Raffaele e io devo dire mi piace dirlo io difendo Don Verze magari negli ultimi anni è diventato un personaggio ambiguo ha fatto cose però creò un centro a Milano che era unico in Europa il centro di Milano allora era diretto da Fazio quello che è stato poi ministro della salute e noi siamo andati da Fazio così come lui è venuto da noi dicendo noi abbiamo questi dati ci date la macchina e lui ha detto sì prendete la macchina facciamo gli esperimenti e abbiamo dimostrato che esiste il sistema il mirror dell'uomo io sono molto grato al San Raffaele ancora va bene adesso passiamo ai limiti io capisco gli altri ma capisco tutto cioè quali sono i limiti di questo sistema specchio l'esperimento che noi abbiamo fatto ancora un esperimento di risonanza questo è di qualche anno fa abbiamo fatto vedere tre azioni cioè qui è la stessa l'azione l'azione è mordere e la fa uno studente lo fa la scimmia e lo fa il cane ora se voi pensate da un punto di vista motorio tutte e tre le specie sanno mordere noi sappiamo mordere seconda parte dell'esperimento abbiamo presentato invece dei messaggi comunicativi lo studente leggeva un giornale e si vedeva quello che si chiama il lipreading il labiali non si sentiva la voce però lo studente che era nello scanner aveva cercato di capire la scimmia faceva un qualcosa che è chiamato lip smacking in inglese è un gesto affiliativo un gesto di amicizia che la scimmia fa è un po' anche un po' di paura ma insomma siamo amici non farmi male ecco questo è un po' il significato del lip smacking infine il cane abbaiava non si sentiva il suono bene i risultati sono questi quello che voi vedete qui guardate soprattutto la parte sinistra che era più interessante questo è l'emisfero di sinistra beh non c'è nessuna differenza cioè nel momento in cui io vedo un cane mordere vedo una persona mordere empatizzo completamente quel cane è come se fossi io non c'è nessuna differenza perché perché abbiamo lo stesso programma motorio quindi noi riusciamo a capire benissimo però se vedo un cane abbaiare o una scimmia fare quel lip smacking che vi ho detto le cose cambiano soprattutto con l'abbaiare con l'abbaiare si attivano le aree visive dopodiché diventiamo Sherlock Holmes dopodiché capiamo col nostro intelletto cosa vuol dire abbaiare perché qualcuno ci ha detto che quando il cane abbia può essere contento viceversa il cane quando vai a mostre i denti è cattivo ma non empatizziamo più perché perché non sappiamo abbaiare non fa parte del nostro repertorio io posso far finta di abbaiare ma non so cosa sta dietro l'abbaiare tutti i sentimenti il perché il cane ha questa emozione che la porta ad abbaiare e quindi qui non capiamo mediante il sistema mirror noi quindi capiamo solo quello che è dentro di noi quello che noi abbiamo imparato un esperimento che mostra questo molto bene è un esperimento fatto in Inghilterra in cui hanno esaminato cosa succede dello spettatore quando vede ballare delle persone e lui sa ballare o non sa ballare e precisamente hanno fatto una cosa molto interessante perché hanno preso dei ballerini classici e dei ballerini di capoeira quella danza brasiliana piuttosto violenta e poi gli hanno fatto vedere dei filmati in cui c'erano delle danze i ballerini classici quando vedevano la danza classica avevano una fortissima attivazione del sistema mirror quando vedevano il capoeira poco le persone che non sanno ballare avevano una piccola attivazione perché ovviamente quando uno balla sono dei gesti che noi conosciamo ma niente di paragonabile a quello del vero ballerino e ovviamente la stessa cosa veniva con capoeira il ballerino di capoeira quando vede ballare capoeira capisce tutto il suo cervello si illumina quando vede ballare classico no qui di nuovo uso la diapositiva dal loro libro che però qui c'ha un piccolo errore che gli ho fatto notare che non è colpa sua perché all'inizio è così all'inizio hanno detto vabbè ballerini classici ballerini capoeira però qualcuno ha detto vabbè ma può darsi che sia non un'esperienza motoria è un'esperienza visiva e allora gli stessi autori londinesi hanno detto cosa succede se faccio vedere a un maschio ballare un maschio oppure faccio vedere una femmina normalmente 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 si balla a coppie quindi l'esperienza visiva io so molto meglio cosa fa la mia partner quando balla invece no l'attivazione è molto maggiore quando vedo ballare un altro maschio perché perché è lo stesso pattern motorio quindi nella prossima edizione loro qui invece di questa ballerina metteranno un maschio perché così sarà preciso anche dal punto di vista delle nuove ricerche scientifiche bene io finora ho parlato del sistema motorio abbiamo parlato anche del ballo eccetera però è tutta lì la funzione dei neuroni specchio risposta è no attualmente noi sappiamo che è un meccanismo molto diffuso c'è un gruppo di ricercatori della Duke University negli Stati Uniti che hanno dimostrato il sistema mirror degli uccelli gli uccelli canterini hanno un sistema mirror nel loro sistema motorio quindi l'emissione del canto la capacità di imparare il canto è legato al meccanismo mirror e questo è stato confermato anche dai ricercatori tedeschi quindi la logica è quella che poi tra un momento vedrete per quanto riguarda le emozioni quello che voi vedete qui è che il meccanismo mirror quindi è un meccanismo di base che trasforma la rappresentazione sensoriale in un formato motorio e poi le funzioni cambiano a secondo di dove questo meccanismo è localizzato se è localizzato nel cervello dell'uccello serve a capire il canto e a imitarlo se è localizzato nel cervello dell'uomo dipende da dove è ora noi finora abbiamo parlato di qualcosa che è definito come meccanismo freddo capisco capisco che uno a terra capisco che uno muove non c'è molta empatia in questo non c'è molto sentimento se vogliamo usare un linguaggio un po' così approssimativo però ancora parecchi anni fa circa dieci anni fa noi abbiamo dimostrato che il meccanismo mirror è importante anche per le emozioni questo è un esperimento che abbiamo fatto insieme con Christian Kaiser che adesso è professore in Olanda è un gruppo di francesi facendo un esperimento sulle emozioni e abbiamo inizialmente dato degli stimoli naturali cioè se io do ad esempio vi faccio vedere la parte di esperimento che è venuto meglio altre parti sono meno chiare ma quella che è venuta benissimo è che se io do uno stimolo che provoca disgusto uova marce l'odore delle uova marce in tutti facciamo così maschi femmine bambini vecchi quello è lo stimolo che immediatamente provoca disgusto e allora abbiamo dato questi stimoli anche altri ma questo mi importa in questo momento e poi nella seconda parte dell'esperimento abbiamo fatto vedere le facce di persone che esprimevano disgusto quindi da una parte è uno stimolo naturale uova marce dall'altra parte la visione di uno che subisce che provoca disgusto l'area che interessa è chiamata insula è un'area un po' nascosta del cervello beh i risultati sono stati questi questo è lo stimolo naturale l'odore e quelle macchiette rosse indicano che quella parte del cervello sia attivata ha più sangue codifica questo che voi vedete qui invece è il punto più interessante vedete le macchiette rosse ma vedete anche delle macchiette bianche le macchiette bianche sono i voxel che si attivano sia quando io percepisco l'odore sgradevole e quando vedo un altro percepirlo quindi cosa vuol dire questo vuol dire che io veramente sento il disgusto come mio perché è la stessa area che sente il disgusto quando lo sento io non è una cosa cognitiva non che ho detto ah beh quello è disgustato perché fa così con le labbra cioè io posso anche così capire il disgusto quando vi mandano un nemotico come si chiamano quegli affarini col telefonino è chiaro voi capite che uno è contento scontento ma non avete nessuna emozione dentro di voi ma se vedete uno che è per terra in un incidente l'emozione l'ha provata ma non è un'emozione perché semplicemente dice ah poveretto si è fatto male ma sentite male dentro di voi e gli esperimenti sul dolore noi l'abbiamo fatto sul disgusto altri l'hanno fatto sul dolore lo provano il dolore nell'altro provoca l'attivazione delle stesse aree che si attivano se qualcuno mi dà una puntura o uno shock elettrico quindi capite questo è un meccanismo estremamente importante perché indica che noi non siamo solo così degli osservatori estranei un po' freddi che dicono vabbè uno sta male pazienza ma noi siamo compartecipi del dolore dell'altro compartecipi del disgusto dell'altro cioè abbiamo in comune facciamo parte della stessa comunità e sharing come si dice in inglese ora questo è qualcosa di nuovo che vi voglio far vedere io finora ho parlato questo non l'abbiamo pubblicato è roba recentissima e nasce da una conversazione che ho avuto con un famoso psicanalista e psichiatra che si chiama Daniel Stern per se c'è qualcuno di voi che si interessa di psicologia infantile è un grande nome Daniel Stern ci ha detto voi studiate molto il come uno fa e anche il perché uno fa vi avevo dato l'esempio che si si afferra in una certa maniera ma c'è un altro effetto che viene spesso trascurato e della dinamica del movimento c'è un sacco di informazione è data dalla dinamica del movimento e sono cose minime immaginate una coppia di fidanzati che passeggia e uno gli passa qualcosa se tu osservi come gli passa puoi capire quello che lui chiama la vitality forum cioè lo stile che cosa gli passa gli vuole veramente bene a questa ragazza gli passa con gentilezza o gli passa bruscamente cioè c'è qualche emozione in questo e allora abbiamo fatto un esperimento presentando una serie di filmati ecco questo è uno e questo è il suo fratellino tutti avete capito che in un caso c'è gentilezza nel caso invece no questo è un altro esempio facciamolo non so perché non vuol partire che cosa beh insomma qui ci sono altre questo passa la tazza in maniera diversa mi spiace che non lo possiate vedere ad ogni modo abbiamo fatto l'esperimento e abbiamo cercato di vedere cosa si attiva nel cervello facendo due momenti un momento i soggetti dovevano fare attenzione a come è fatto l'oggetto e ne altro che cosa viene fatto ora per fare la storia breve perché il tempo sta correndo vorrei dire due parole sull'autismo quello che noi abbiamo trovato è che c'è un circuito particolare cioè sottraendo in varia maniera questi dati qui ancora l'insula è attiva la stessa struttura delle emozioni ma non è la stessa parte delle emozioni quindi noi capiamo le emozioni con una parte dell'insula ma questi piccoli segni questi piccoli gesti che ci accompagnano nella vita continuamente sono compresi da un altro circuito ora questo può sembrare vabbè così gli scienziati ogni tanto studiano cose strane invece è saltato fuori perché c'è un aspetto clinico importante e noi negli ultimi anni abbiamo anche studiato l'autismo l'autismo è una malattia che sta diventando epidemica ed è un mistero perché è una malattia su base genetica e di solito le persone con autismo non è che abbiano molti figli quindi dovrebbe estinguersi invece viceversa sta aumentando arrivando a proporzioni dopo se qualcuno vuole ne parliamo ma non so se ho tempo adesso dire perché ma il fatto sta che aumenta e quali sono i sintomi dell'autismo molti ma i sintomi chiare sono una incapacità di partecipare al mondo degli altri comunicano male non capiscono i segni degli altri cioè vivono in un isolamento ci sono dei bambini con autismo che hanno anche dei deficit intellettivi che hanno un cosiddetto di intelligenza basso ma quelli che vengono chiamati high functioning sono persone assolutamente normali alcuni possono essere molto intelligenti non c'è nessuna limitazione c'è una vasta gamma beh però questi altamente intelligenti ma poi ne parlavo prima con Rizzato non capiscono una cosa di questo genere se uno dice tu mi puoi passare il caffè il bambino autistico risponde sì ma non te lo passa perché è rimasto all'aspetto letterale della parola mi puoi passare sì te lo posso passare non me l'hai chiesto di passare io lo rispondo capite che la comunicazione è molto complessa eccetera va bene noi abbiamo fatto un esperimento vedendo se loro capiscono le intenzioni degli altri e come è un esperimento fatto con una tecnologia molto semplice perché si trattava di questi poveri bambini e allora noi abbiamo registrato i muscoli che aprono la bocca il miloioideo si chiama e abbiamo chiesto prima a un bambino normale un bambino a sviluppo tipico come si dice nel linguaggio scientifico di afferrare un oggetto e di metterlo o in bocca o di metterlo nel in un contenitore questo è il compito metti in bocca metti nel contenitore questa è la registrazione elettromiografica quello che risulta è che nel bambino normale 800 millisecondi prima che il cibo vada in bocca c'è già l'idea di cosa deve fare lui ha molto chiaro la sua intenzionalità è ovvia lui appena muove il braccio ha già attivato i muscoli della bocca in modo da creare una sequenza splendida fluida di quello che avviene non qualcosa a scatto e se lo stesso bambino osserva un altro bambino che mangia la linea rossa l'azione dell'altro gli entra dentro intrude nel suo cervello ed è come se fosse sua la linea rossa è l'azione dell'altro gli si attivano i muscoli in maniera congrua ed ecco il bambino autistico la prima cosa e secondo me è molto importante questa è che il bambino non ha dentro di sé la capacità di organizzare le sue intenzioni c'è lui e questi sono tutti intelligenti e questi sono tutti uno addirittura dei voti altissimi in fisica e matematica sono tutti bravi intelligenti capiscono il compito però non riescono a organizzare la loro intenzione nella stessa maniera cioè dividono il compito in piccoli passettini afferrano l'oggetto quando hanno afferrato l'oggetto lo mettono in bocca cioè non riescono a trasformare la loro volontà in un'intenzione motoria precisa questo è stato un dato molto interessante perché sposta il problema verso l'attività motoria verso non più il bambino ha dei problemi cognitivi e quindi non capisce il bambino ha una cattiva organizzazione motoria non riesce ad organizzare se stesso e quindi le tecniche riabilitative eccetera devono cambiare prospettiva guardate cosa succede quando osserva un altro niente è il silenzio più completo cioè il suo sistema mirror è completamente zitto lui ha capito come Sherlock Holmes lui capisce ma lo sforzo del povero bambino del povero malato adolescente è che ogni momento quindi a un certo punto si rifiuta di andare in pubblico a interpretare tutti questi gesti misteriosi ogni volta ah dice se afferra così vuol dire che per bere ah se fa così c'è uno sforzo tale che a un certo punto e questa è una frase scritta da una signora con autismo che in qualche maniera manifesta chiaramente quello che abbiamo detto questa signora adesso ha avuto molto successo dalla vita perché intelligente eccetera a parte il fatto che non nella vita sentimentale il suo fidanzato diceva star con te è come stare con un armadio non capisci mai cosa voglio comunque quando era piccolo ha avuto questo periodo tremendo perché il suo papà si arrabbiava perché questa bambina non lavora come le altre e diceva io trovavo difficile muovermi come se dovessi pensare ogni volta cosa devo fare in un certa maniera io dovevo ordinare a me stessa l'azione ed è quello che vi dicevo prima cioè non è questa capacità che abbiamo noi persone a sviluppo neurologico tipico di creare l'azione immediatamente senza sforzo ma ogni volta devo dire devo pigliare il cioccolatino devo metterlo in bocca e questo ovviamente è un grosso problema concludo con quello che vi sarà sembrato prima ma perché ha fatto vedere anche i vitality effect perché i bambini con i vitality effect hanno un'enorme difficoltà a capirlo cioè i bambini con autismo quel compito semplicissimo che purtroppo non avete visto tutti i filmati ma quello di fare con gentilezza o con forza hanno difficoltà sembra sbalorditivo che per noi è così banale dice vabbè lì lo fa con gentilezza lì lo fa con violenza sbagliano un sacco di volte qui vedete sbagliano il 30% dei casi e questo nella vita di tutti i giorni è drammatico perché se tu non capisci questi atti qui come fai a integrarti nella società con gli amici se uno ti fa un gesto violento ti fa un gesto gentile non capisci cosa sta facendo la cosa interessante di questo sono due cose interessanti la prima è che questi vitality effect purtroppo non li capiscono neanche gli adolescenti noi abbiamo studiato 20 bambini di cui 8 avevano tra i 15 e i 18 anni e non è ritornato nonostante la riabilitazione che avevano subito questa capacità quindi è un qualcosa di estremamente profondo l'altro fatto e questo ritorniamo alla collaborazione con con Stern i psicologi psicologisti e che queste sono cose immediate il bambino normale questi piccoli gesti li capisce subito li capisce a pochi mesi il rapporto mamma-bambino si basa su questo quando il bambino ancora non parla perché il sorriso il muovere in una certa maniera è capito dal bambino il quale reagisce se manca questo non ha le basi per riuscire poi a fondare una capacità di relazione con gli altri ora questo è di fondamentale importanza perché oggi lo scopo di moltissimi laboratori è di fare una diagnosi precoce l'autismo non è una malattia incurabile ma è una malattia difficilissimamente da curare quando più passa il tempo io l'esempio che faccio spesso è quello delle lingue straniere se uno impara una lingua a due anni o a tre anni parla con l'accento inglese se uno lo impara a diciotto anni non avrà mai l'accento inglese caso classico è il famoso ministro degli esteri Kissinger dai tempi il quale parlava con l'accento tedesco pur essendo professore ministro eccetera ma lui era tedesco e parlava con l'accento tedesco la stessa cosa per il bambino autistico c'è una finestra in cui uno deve capire gli altri se riesce lì in quella finestra in quella finestra temporale a entrare in contatto con gli altri va bene per tutta la vita se quello gli manca poi è molto molto difficile quindi hanno ovviamente un defici genetico però non è un defici genetico assoluto come in certe malattie che porta necessariamente è una predisposizione a non riuscire a comunicare con gli altri quindi il meccanismo mirror da qualcosa che si studiava della scimmia nell'area motoria attualmente è diventato qualcosa che interessa moltissimo anche la patologia fermo qui grazie 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 a tutti grazie a tutti